Ops a tutti, i miei cari psini e psine, come state? Spero molto molto bene Oggi, come starete vedendo, sono nel mio letto per fare un video di sussurri molto molto intensi con tanti visui trigger proprio qua davanti alla telecamera Perciò fatemi sapere voi cosa ne pensate Ok, perciò iniziamo Spero mi vediate bene Io ho qua davanti a me il letto arancioni in modo che mi riscaldino un po' in faccia mentre dietro di voi dietro, dietro, dietro di voi le luci quelle un po' più grandi Aspettate che capisco bene come mettermi Una cosa che volevo fare era contare contare quante ciglia hai appunto in entrambi gli occhi nonchè, a me e mi sembra, nonchè, Welcome back 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, diverti 1, 2, 2, 3, 23, 25, 25, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 32 32, 32 adesso segui la punta del mio dito ok ok la punta del mio dito la punta del mio dito ok ok adesso magari la conto qualcosa allora anche se sono un pochino scomodo in questa posizione posso resistere raccontandovi un pochino come essere un sml artist c'è stata e vi racconto un attimino di quali sono le mie impressioni in questo campo ecco allora spero mi vedete bene io penso che in questi ultimi anni la community ASMR si sia ampliata molto 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 ci sono tantissimi utenti soprattutto italiani almeno parliamo in Italia per adesso che producono contenuti ASMR e quindi c'è tanta concorrenza sono felice però che in Italia l'utente più famoso che crea contenuti ASMR sia chiara perché trovo che i suoi video siano veramente rilassanti proprio veramente e li apprezzo veramente veramente tanto li apprezzo li apprezzo mi piacciono veramente tanto i suoi video sono anche però dell'idea che secondo me questo questo fenomeno in Italia sia ancora poco sviluppato nel senso che in America anche un piccolo canale ASMR ha un certo numero di follower che magari non è altissimo rispetto ad altri però sono comunque qualche migliaia di iscritti che hanno e secondo me in Italia la gente non guarda tanto questo tipo di video in America molto di più e nulla era una piccola riflessione che volevo fare insieme a voi la sentite bene oggi la mia voce non lo so è come se la sentissi tipo bassa e strana vabbè 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 riprendiamo a fare un po' visual trick visual trick visual trick il cremino dietro vado un po' sensazione scraccia 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 gru gru plac 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 caloc e niente ho un power lì ho caldo, ma non importa dai, non importa, non importa, non importa, troviamo un altro argomento, come potete vedere non ho per nulla preparato questo video, so solo che volevo mettermi un po' qua nel letto e fare un video, e basta, e basta, fatemi sapere voi come state, se siete degli studenti come me, come va a scuola, oppure se siete già adulti, magari rilavorate, cosa fate per divertirvi in generale, ecco, magari vorreste avere un po' più tempo per divertirvi, e niente, io vorrei avere un po' più di tempo per uscire, di più, perché esco veramente poco, secondo me, però oggi sto lavorando, piano piano inizio ad uscire tutti per otto e di più, ad ok, like uscire, e invece per uscire, e vediamo Che bel ton clicking. Solo che oggi, ripeto, mi sento come se fossi tipo chiuso la voce, non lo so, è una sensazione strana, direi di sì. E niente, spero mi vedete ancora bene, non ho idea, non ho idea, non ho idea, non ho idea. Troviamo un altro argomento di cui parlare. Una cosa che vorrei, a parte, questo, aspettate, trapparente, non è una cosa che devo dirvi. Scrivetemi magari sotto questo video delle idee di video che vorreste vedere. Perché io ogni tanto non ne ho tante idee, appunto. E vorrei, 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 vorrei un vostro parere, un vostro parere per capire che video vorreste vedere, appunto. Quindi, così. Adesso parliamo di qualcosa. Voi che tipo di persona siete tra una persona che nel tempo libero guarda film, serie tv Oppure una persona che semplicemente nel tempo libero se ne sta col telefono e basta Oppure una persona che nel tempo libero vuole comunque fare qualcosa di produttivo Quindi si organizza il lavoro che dovrà fare successivamente Oppure una persona che legge Oppure, non lo so, raccontatemi voi che tipo di persona siete nel tempo libero Io non ho praticamente tempo libero Faccio talmente tante cose che veramente come se praticamente non ce l'avessi nel tempo libero Perché tra la scuola, che comunque occupa sei ore minimo di una giornata Perché ci sono i giorni in cui ho anche più di sei ore per vari rientri che devo fare Per fare dei corsi, eccetera, eccetera Tra YouTube In quanto comunque per la registrazione L'editing video, la pubblicazione Tutti dietro qui Mi occupa comunque un'oretta, un'oretta e mezza al giorno, ecco E tutto il tempo che devo passare a fare i compiti Che per fortuna mi riesco a fare abbastanza velocemente Diciamo che il tempo non mi basta mai, ecco Se la giornata fosse un po' più lunga sarebbe meglio, ecco Buon ballare CSe Fellato Vuoi L'Èllo Dai, con questo penso sia giunto il momento di salutarvi E' stato divertente avere qui oggi, un po' più vicini a me E ormai sapete come funziona, mi seguite da tantissimo Io vi lascio qua, il mio video precedente Qua ho la mia playlist, qua in basso il tasto per andare sul mio canale Il video di oggi finisce qui Quindi mi raccomando, voi adesso Voi adesso Iscrivetevi al canale Lasciate un like e commentate Così l'algoritmo di Youtube mi spinge un po' di più nelle home dei vostri Youtube Per farmi conoscere un po' di più, ecco Quindi Vi dovrei aver detto tutto, tutto, tutto Vi mando un grandissimo bacio Vi voglio tanto bene, quindi ci vediamo al prossimo video Buona notte! 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 Buona notte!